E allora noi chiediamo aiuto ai nostri Santi. A Sant'Ignazio oggi la Chiesa festeggia questo Santo, fondatore dell'Ordine dei Gesuiti. Papa Francesco appartiene a quest'Ordine. Quindi preghiamo oggi in modo particolare per il nostro Papa Francesco, affinché il Signore Dio Onipotente possa sempre aiutarlo e sostenerlo nella sua missione e nel suo ministero di pastore universale della Chiesa. E preghiamo anche Padre Pio e la Vergine Maria, Regina delle Grazie, la Mamma di tutte le mamme, affinché possano sempre, durante questo nostro pellegrinaggio terreno, aiutarci a vincere la buona battaglia. Affinché un giorno, quando termineremo questo nostro pellegrinaggio terreno ed entreremo nel Regno, potremo ottenere, come Gesù stesso ci ha insegnato e come ci ha promesso, potremo ottenere quel premio, potremo ottenere quella ricompensa che è stata promessa a ciascuno di noi da Dio nostro Padre Onipotente.